Abbiamo registrato un'ottima affluenza di persone per la terza giornata del piano dei quartieri. Tante famiglie con i bambini interessati alle attività e agli interventi del quartiere. I cittadini hanno mostrato grande soddisfazione per l'evento. Oltre la metà hanno lasciato nell'urna delle osservazioni o delle proposte. I temi che sono stati trattati sono stati molto variegati. Ci sono stati anche molti incontri da parte di comitati di quartiere, comitati di associazioni e così via che hanno avuto l'opportunità di incontrare assessori in riunioni appositamente dedicate dove hanno potuto affrontare diversi temi. I cittadini richiedono di entrare in un dettaglio più approfondito rispetto alla zona in cui vivono. E devo dire è stato molto utile sia per i cittadini ma anche per i colleghi. La giornata ci ha portato a conoscere delle persone orgogliose di vivere in questo ambito.